7. Per non confondervi maggiormente, cerchio il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. Entità sante. Esausto l'iniziale turbamento che comporta mutazione di stato, sì radicale e assoluta, nonché l'angoscia procurata da presa di coscienza di sue tante debolezze umane, lo spirito, salvo se poco elevato e longamente giacente nella prigione costruitasi, a un dato momento avverte stimolo di dedicarsi a opere nove che ponno dar senso a sua nuova esistenza. E' quasi sempre il maestro a suggerirgli ciò, ma usando grande prudenza per non influire sull'una o l'altra scelta che deve essere propria. Ve' così spirito che sceglie di soccorrere i nuovi arrivati consolando i più afflitti, ma ve' pur spirito che sceglie di aiutare le creature ancora incarnate istruendole con ogni mezzo. Ve' spirito che si manifesta tramite le trance, gli scritti, eccetera. Ve' spirito che avendo da poco abbandonato ruolo materno è desioso d'occuparsi di coloro che qua giungono in tenera età. Ve' spirito che intende di progredire in una data scienza di già esercitata in terra, così da poter illuminare i condiscepoli. Qua non ve' affatto il riposo del tipo che voi immaginate e che religione predica, se non intervalli che dedichiamo all'apprendimento e alla meditazione. E in vero più che dei vostri doli, noi ci preoccupiamo dei doli dei fratelli di qua, i più arretrati, che molta fatica fanno per liberarsi dai lacci di materialità, così restando imprigionati entro loro inferno. A tal proposito devo confessare che grande parte di vostre preci a loro noi le destiniamo per più lestamente dissipare le tenebre dalle quali sono avvolti. E però, come ho detto di già, la vera preghiera deve essere anzitutto colloquio con vostro sé profondo e mai domanda, mai pretesa, perché sostanzialmente ella è luce fortificante che può aiutarvi nella comprensione e nella tenacia sino a rinnovarvi. Purtroppo molti sono gli uomini che mai hanno pregato perché privi di qualsiasi fede, ma altrettanti sono gli uomini che pur privi di fede sempre continuano a pregare, credendo e scambiando prece per osorcismo e portafortuna. Fra codesti due tipi di uomini, se giudicare fosse mio potere e compito, giudicherei più severamente l'ultimi. Non credono all'esistenza dello spirito e ne invocano aiuto. Implorano miracoli, non credendo ai miracoli, ipocriti o stolti. Si prendono gioco del divino o di sé medesimi. In vero, non tutto quel che l'uomo chiama miracolo è tale, ma più è ignorante, più l'umanità è propensa a gridare al miracolo. Al tempo, pur un biroccio che andasse senza cavallo, miracolo potea parere. In loco di miracolo io uso parola evento straordinario, che accade assai di raro, perfine a tutti ignoto. Ma chi o cosa può mutare immantinente le sorti di percorso umano che pare ha segnato? Qual forza immane e misteriosa può far sgorgare fonte in sito desertico, oppure fiorire pesco a dicembre? Può ridonare moto a paralitico e vista a cieco? Secondo il poco saper mio, vari fattori si assommano, onde ciò si verifichi, ma per il momento mi conviene non approfondir questione per non confondervi maggiormente. A presto! Grazie a tutti